L'ennesima segnalazione da parte di un cittadino è apparsa anche questa settimana sul telefono di Rossini TV, con foto che testimoniavano come un'altalena del parco Nilde Jotti di Montecchio fosse stata distrutta da alcuni ragazzi. La situazione però è molto più grave del previsto, dato che questo episodio è stato solamente la ciliegina su una torta dal gusto amaro che ha fatto scattare la rabbia dei residenti di quella zona. Io vi ho chiamato, parlando anche con tutti gli altri cittadini della zona, dopo la rottura dell'altalena, ma questo è avvenuto perché da un anno a questa parte, d'estate, si creano delle situazioni di fastidio, quindi scooter che fanno le gare tra di loro, ragazzi che fanno gli schiamati fino alle due o tre di notte, e quindi vorrei che si trovi una soluzione anche per questi ragazzi, per farli fare anche magari qualcosa, dove possono stare, però nessuno, come si dice, gli dice che non possono stare nel parco, però magari con più, come si dice, educazione. Magari anche la sera capita che magari vengono qui a mangiare, lasciano le cartace in giro, la sera dopo di Capodanno, che hanno fatto le feste come giusto che sia, avevano lasciato per terra di tutto, vetri rotti e quant'altro, ed era anche pericoloso per i bambini che ci andavano al parco, e non solo, quindi noi tutti chiediamo una soluzione al comune, che non sia quella come giusto che sia, che magari si rompe il gioco, lo facciamo presente, lo vengono a giustare perché nessuno sta dicendo questo, però che sia anche qualcos'altro, come può essere un'area video sorvegliata, oppure quello che è, perché comunque siamo stufi, nel senso che comunque la zona è bella, la zona è nuova, è in fase di evoluzione, quindi ci sembra anche giusto che rimanga quello che è, ecco, e quindi cerchiamo di fare questa cosa qui. Ecco, in qualche modo chiedete al comune una tutela in più, perché immagino che anche voi vi siate presentati davanti a questi ragazzi, abbiate comunque in qualche modo cercato di redarguirli, cosa vanno risposte in questi casi? Sì, noi più di una volta abbiamo cercato a questi ragazzi di spiegargli che nessuno, come stavo dicendo prima, gli dice che non possono stare al parco perché ci mancherebbe altro, però gli hanno detto magari fate un più piano, abbiate rispetto, se mangiate buttate via la carta, il vetro, quello che sia, a questi ragazzi qualcuno magari capisce, nel senso che magari dice ok, magari invece qualcun altro magari ti invisce contro, quindi magari ti dice fai i tuoi, queste cose qui e che comunque non sono belle, in più a qualcuno mi hanno anche detto che hanno fatto anche rispetto nelle macchine, quindi sono situazioni che non sono belle, come si dice. Oltre al sistema di videosorveglianza avete in mente qualche altro sistema per contrastare questo sistema di delinquenza giovanile? Sì, qualche altro sistema può essere quello che magari la polizia municipale possa fare delle ronde, visto che magari come gira nella zona, magari passa ogni tanto anche qui a guardare che sia tutto a posto, poi è normale, come si dice, quando arriva magari il poliziotto fugono, però magari già un occhio di riguardo in più, a questi ragazzi che comunque c'è qualcuno che li controlla sopra, oltre a noi, quello che possiamo fare, perché comunque non è facile, chiedo che anche le famiglie abbiano un occhio di riguardo in più, un'educazione in più, se anche uno magari gli sgrida e magari il figlio viene a casa dicendo guarda ma ha sgridato quello perché ha buttato, cioè che non venisse dopo magari da noi a dirci ma perché avete sgridato, invece magari dovrebbe dire ha fatto bene perché comunque sia la cartaccia non si butta per terra, è tutto qua.